Allora, siamo partiti per andare tutta da un'altra parte, dovevamo fare un'esperienza nuova, e invece ci hanno dato buca, e siamo venuti qui, pia un po' di fresco, un'altra panchina, eccola, stanno provando, la panchina estiva, con l'acqua, c'è tutto. Questa è un posto segreto, location segreta. Siamo venuti a respirare l'aria pura, per vedere se il cincillà si ripia, ma non si ripia, il cincillà lasciatelo fare. Non si ripia, non si ripia, non si ripia. Non cominciamo a farlo a pietra. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Mannaggia Crino! No, Crino! Allora smettalo, non mi fai fare lo stupido.